Salve a tutti popolo del web Rieccoci in un nuovo video, l'argomento che discuteremo tutti insieme Liverpool campione di Inghilterra Ne discuteremo tra qualche istante Non dimenticatevi di mettere like al video Cosa molto importante, iscriversi al canale per non perdere le news dei video Liverpool campione di Inghilterra dopo 30 e lunghi anni Diamo i meriti all'allenatore Klopp Per aver vinto tutto con il Liverpool Gli mancava solo la conquista della Premier League Di certo Klopp deve ringraziare alla triade Se l'allenatore Klopp ha vinto tutto con il Liverpool Lo deve al trio delle meraviglie E sto parlando di Mohamed Salah Sadio Mané e Roberto Firminio I festeggiamenti continueranno per tutta la notte e anche oltre Mi sembra anche giusto Per un'attesa lunga 30 anni Mi pare, mi pare che qualche strappo alla regola si possa anche fare Complimenti ancora a Klopp e a Liverpool Siamo giunti al termine di questo nuovo video Ma raccomando, condividiamo i video in coppe social Facebook, Twitter e Instagram Mi voglio bene a tutti quando ci vediamo il prossimo video Ciao, adiu Grazie a tutti